Penso che non solo per la Juve ma anche per tutto il calcio italiano è bellissimo che Ronaldo stia andando alla Juve. Poi la Juve è un case bellissimo per tutti, soprattutto in Italia secondo me, perché il calcio italiano, l'Italia ha vissuto dei momenti molto difficili negli ultimi anni. Però la Juve è riuscita sia a sopravvivere che a tornare ad essere grande, sia in Italia, dopo un periodo bruttissimo di andare in Serie B, tutto quanto si è rinventata, tornata grande sia in Italia che in Europa. Quindi adesso prende uno dei giocatori più importanti al mondo, lo porta in Italia e questo tutte le altre squadre potrà sfruttare di questo momento che la Juve porta un grandissimo nome al calcio italiano. Quindi per me, come uno che piace tantissimo il calcio italiano, da milanista dico che questo sarà molto bello per il calcio italiano. È un momento importantissimo nella sua carriera, vedere i tifosi contrari, chi ti applaudono, chi ti salutano, è una cosa unica. Però non penso che sia questo il motivo che l'aveva fatto andare alla Juve, è più perché la Juve è una squadra vincente, si segue in questa maniera vincendo in Italia. Negli ultimi anni ha sempre arrivato vicinissimo a vincere la Champions e una motivazione per lui di mantenere e trovare le sue forze e motivazioni per continuare ad essere un top player.